Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Dunque, pagellasse di Sampdoria Juventus che è finita 2-0. Piccolissima analisi della partita dove io devo dire sono, dopo la prestazione di oggi contento. Ho visto una buona Juventus, una Juventus sul pezzo, concentrata, che voleva questa vittoria, l'ha ottenuta e l'ha ottenuta, come si dice in gergo, da par suo. Nel senso che ha praticamente, possiamo dirlo, quasi dominato la Sampdoria. Scesni ha fatto una piccola parata su un suo palo, per il resto non pervenuto. Una Juventus che ha dominato andando sempre alla ricerca della conquista del pallone. Poi, è chiaro ragazzi, che come si dice sempre, non è che puoi pretendere che una squadra domini per 95 minuti. Non è facile questo. Però sicuramente oggi era una partita non facile, perché giocare a Genova, che si tratti di Genova o che si tratti di Sampdoria è comunque difficile. Ma soprattutto oggi la Juventus e la Sampdoria hanno giocato in un campo veramente molto difficile, sotto una pioggia battente, insistente, che ha durata tutta l'arco della partita e che ha complicato, ovviamente, non poco, le fatiche dei giocatori. La partita in sé, come dico, non mi è dispiaciuta. Ho visto una buona Juventus personalmente. Ho visto una Juventus più o meno, devo dire, tutta sufficiente o comunque con voti buoni. Oggi, per come intendo il calcio io, ma adesso ne parleremo, diciamo che sono veramente molto molto pochi, forse nessuno, insufficiente. Però qualche lacuna, a mio parere, c'è stata. Adesso, come dico, ne parliamo fra un attimo. Pirlo ha presentato una buona formazione, secondo me, una buona squadra e la squadra ha risposto. Ha risposto bene, ha fatto i cambi, secondo me, nei momenti giusti, dando spazio un pochino a giocatori che magari giocano un po' meno. Mi aspettavo in un certo momento di vendere, entrare in campo anche Kulusevski, ma niente. Forse non c'era in panchina, non lo so, non ci ho neanche fatto caso, sinceramente. Per il resto, annoveriamo questi tre punti come un'altra vittoria comunque per rilanciarci in questo campionato. Detto ciò, veniamo alle pagellazze. Dunque, Siezni, gli ho dato sei. Sei perché comunque è un portiere sempre pronto e anche oggi l'ha dimostrato, ha diretto bene la difesa e ormai praticamente è diventata una solidità, ne possiamo parlare così. Non ha sofferto la Sampdoria, ma anche perché la Sampdoria praticamente non ha mai tirato. Quadrado sei e mezzo, sei e mezzo perché ha servito un assist bellissimo per il secondo gol di Ramsey, è stato anche troppo generoso. In altri momenti, forse Quadrado in quel momento ha ripensato del gol sbagliato l'ultimo per non passare la palla a Ronaldo, stasera invece ha visto Ramsey che era sistemato meglio di lui e quindi in un gesto molto altruistico gli ha detto fai gol tu. E questo è quello che dovrebbe succedere sempre in ogni partita. C'è sempre, non tradisce mai e anche oggi è stato sicuramente una spina nel fianco di questa squadra sampdoriana. Bonucci sei. C'è stato, perché c'è stato, ma in alcuni momenti l'ho visto perdere qualche giocata. Io mi dispiace ma opto per Chiellini De Ligt in difesa. Chiellini, sette e mezzo, il rientro del nostro capitano è stato splendido e questo significa che cosa vuol dire quando hai giocatori sicuramente in forma. L'unico peccato del nostro capitano è che purtroppo in forma purtroppo c'è per poche partite all'anno ma quando Chiellini è in forma sicuramente è veramente una diga e oggi ne è stata una dimostrazione. Questo non vuol dire però che io non resto dell'idea che è un giocatore che comincia a essere anzi a notto e teoricamente dovrebbe abbandonare le scarpe, attaccare le scarpe al chiodo come si dice, ma oggi questo discorso bisogna lasciarlo perdere e fare soltanto un applauso al nostro capitano perché ha fatto veramente una partitona. Danilo sei e mezzo, puntuale, preciso, senza alcuna sbavatura, mi è piaciuto. La Sampdoria, ripeto, se non è stata pericolosa è anche perché comunque grazie all'apporto di Danilo. McKennie sei e mezzo, c'è dappertutto, corre a tutto campo, imposta, difende. Io credo che da un ragazzo di 22 anni sconosciuto, tra l'altro che proviene da un paese dove il calcio non è che sia certo lo sport, diciamo così, che va per la maggiore, è sicuramente stata una gran bella scoperta. Ragazzo che ha dei margini di miglioramento ancora enormi, ma il fatto che a 22 anni sia diventato titolare della Juventus credo che spieghi molte cose. Sicuramente i giocatori della Sampdoria se lo sogneranno perché dovunque c'era un pallone da recuperare c'era lui. Bentancur sei, quando manca secondo me questo ragazzo si vede perché fa molto lavoro sporco, molto. Va sempre a cercare di chiudere. Lui dice che si trova bene a fare il regista. Io non so se il regista possa essere il suo ruolo, francamente. Io su questo ho dei dubbi. Però comunque il giocatore quando è in forma e c'è, è un giocatore difficilmente sostituibile e infatti anche Pirlo se ne sta rendendo conto. Arthur, gli ho dato 7. Una delle migliori prestazioni da quando è alla Juventus, secondo me. Ha giocato bene, ha diretto bene, ha cercato i compagni che nel secondo tempo sono un po' calati e ha fatto un pochino più di fatica anche lui, ma per il resto secondo me è una partita quasi perfetta. Non ho veramente nulla da dire su di lui, ma soltanto fargli un complimento che per me oggi merita veramente. Chiesa gli ho dato 6,5. Quando c'è da far gol è sempre pronto e adesso chissà se i suoi denigratori continueranno a pensare che questi 60 milioni siano veramente molti. Io non credo che sia così perché credo che anche questo stiamo parlando anche qui di un giocatore giovanissimo, italiano tra l'altro, da tempo nell'ottica e nel giro della nazionale. Io credo che Chiesa potrebbe veramente, potrà veramente regalarci negli anni delle gran belle soddisfazioni. Ragazzo che veramente può cambiare davvero in certi momenti l'inerzia delle partite. Quindi complimenti apparatici per averlo preso, almeno da parte mia. Morata 6,5. Aveva segnato un gol, ancora una volta annullato per fuorigioco, peraltro giustamente. Si danno all'anima, corre tantissimo, centravanti di manovra completo dalla difesa all'attacco. Che cosa dire? Io penso che sia stato ancora una volta un gradito ritorno e anche oggi con la Sampdoria secondo me non ha deluso. Cristiano Ronaldo, io non mi azzardo a dargli più di 6. Mi dispiace ma io l'ho visto ancora oggi un po' lento. Oggi ha fatto più da rifinitore, ha fatto. Ha servito praticamente due assisti, due gol, sono partiti tutti e due dal suo piede. Ma non è questo per cui tu hai preso Ronaldo. Ronaldo è un altro il ruolo che deve fare, non è il suo. Io oggi l'ho visto almeno in 3-4 volte perdere palloni che quando è in forma non perde. Quando è in forma sorclassa gli avversari. oggi l'ho visto lento, l'ho visto perdere palloni stupidi, proprio per poca reattività. Io gli do 6 perché i due gol sono partiti da lui ma se non avesse fatto questo gli avrei dato l'insufficienza. Ramsey, 6 perché si è fatto trovare puntuale sul gol ma per il resto io continuo a pensare che questo giocatore può giocare contro qualunque squadra ma non riesco a capire se è un giocatore forte o no. Veramente non riesco a capirlo. Bernardeschi, 6, secondo me è entrato bene in partita, si è fatto trovare per una volta tanto pronto anche a livello di copertura difensiva. Quindi devo dire oggi non mi ha deluso. Ovviamente sono altre le partite delle quali mi aspetto il miglior Bernardeschi, Bernardeschi, ma secondo me oggi ha fatto non male, non male. Alexandro, senza voto ma gli do 6 così per il grazie perché è rientrato. Rabio, 6 anche se anche lui ha fatto poco, diciamo che ha partecipato. E per ultimo il nostro mister, Pirlo, al quale oggi do 6,5 perché ha presentato in campo secondo me la formazione che, a parte in un interprete o due per quel che riguarda il reparto d'attacco, per il resto dovrebbe essere questa la formazione, sempre titolare. Tranne che negli interpreti difensivi che, a mio parere, dovrebbero essere i titolari Chiellini, Demiral e De Litt, con Bonucci in panchina. Io la vedo così. Ciao a tutti.